buonasera ragazzi buonasera ragazzi come va tutto bene se beati voi beati allora allora quarta ultima giornata di campionato quarta ultima giornata di campionato in cui fondamentalmente non cambia assolutamente un cazzo non cambia assolutamente un cazzo rimaniamo a meno due dal milan il napoli rimane terzo la juve rimane quarta le prime quattro hanno affrontato quattro partite abbastanza abbastanza diverse l'una dall'altra diciamo che il napoli ha dominato inutilmente visto che comunque si è giocato lo scudetto le partite precedenti è uscita la lotta per lo scudetto le partite precedenti una juve orribile sotto le sapienti mani di max acciughina allegri sta riuscendo partita dopo partita a trasformare quel fenomeno di vlaovic nel nel futuro nel futuro a mauri e per quanto riguarda le milanesi per quanto riguarda le contendenti allo scudetto la situazione è rimasta è rimasta invariata un milan che riesce ad imporsi sulla fiorentina grazie ad una papera del portiere esattamente come è successo a noi contro il bologna solo che noi ce la siamo presa nel culo mentre loro invece hanno vinto è un inter che in un modo o nell'altro porta a casa tre punti in quella di udine allora allora mancano tre partite nove punti a disposizione ora non ci sono più asterischi non ci sono più scuse non ci sono più cazzi la situazione è la seguente il milan deve per forza fare un passo falso se noi vogliamo avere qualche speranza di portare a casa sta benedetta seconda stella attualmente attualmente non lo vedo non lo vedo possibile perché vedo un milan veramente concentrato veramente esaltato molti parlano di culo ma io lo definisco più convinzione vedo un milan veramente convinto ho visto tutta la partita del milan ho visto tutta la partita del milan e hanno qualcosa hanno qualcosa in più di noi hanno qualcosa in più di noi allora tralasciando le innumerevoli cagate che ho sentito negli ultimi giorni negli ultimi giorni del tipo il milan ha uno spogliatoio più unito loro si vogliono bene mentre invece noi no e il milan vince grazie al gruppo allora tralasciando tutte ste cagate qua secondo me semplicemente il milan attualmente ha più voglia di vincere lo scudetto rispetto all'inter punto e basta punto e basta poi è ovvio poi è ovvio che molti campionati si sono decisi grazie a degli episodi e purtroppo e purtroppo l'episodio io non tradu è un episodio che potrebbe che potrebbe che potrebbe portarci a perdere la seconda stella ma indipendentemente dalla immensa cagata che ha fatto io non tradu e la differenza tra l'aver perso o pareggiato quella partita sta tutta in un semplice calcolo matematico ci sono tre partite alla fine ok nove punti a disposizione mettiamo il caso che dio voglia che grazie ad un calendario anche più semplice noi riusciamo a vincere tutte e tre e il milan dovesse dovesse incappare in una battuta d'arresto mettiamo che il milan ne pareggia una di queste tre il milan vince lo stesso perché arriviamo a pari punti e grazie a quello stramaledetto fottuto schifoso bastardo derby che abbiamo perso ok con cinque minuti di follia il milan si porterebbe a casa lo scudetto a pari punti con noi perché dico che la cagata di jonut radu è così determinante per il fatto che se noi quella partita col bologna l'avessimo pareggiata questa eventualità non ci sarebbe stata perché adesso saremo a meno uno da loro e quindi un pareggio loro e tutte le vittorie nostre significherebbe portarci a casa lo scudetto all'inizio nel video precedente io avevo detto vabbè che cacchio cambia averla vinta o averla persa un paio di coglioni un paio di coglioni cambia il mondo aver pareggiato quella partita invece che averla che averla persa come abbiamo fatto perché se noi avessimo pareggiato quella partita ci saremmo avremmo avuto la speranza di riuscire a vincere lo scudetto in caso di un pareggio del milan nelle prossime tre partite e invece questo non può succedere perché in caso di pareggio del milan noi gli recuperiamo due punti ma ce la prendiamo nel culo con esattamente nello stesso modo quindi quindi l'unica speranza che abbiamo è che il milan perda ma io vedendo giocare il milan vedendo giocare il milan oggi e vedendo giocare noi io posso anche credere che noi potremmo riuscire a vincerle tutte e tre ma credetemi che il milan non le perderà non le perderà neanche una al massimo incapperà in un pareggio e a me questo sentore questo odore di beffa clamorosa lo sento ormai da un bel po' lo sento ormai da un bel po' io vi giuro che penso che per noi interisti perdono uno scudetto contro il milan arrivando a pari punti e perdendo a causa dello sconto diretto ovvero del derby penso sia la beffa più grande che ci possa che ci possa capitare io veramente a questo punto vi giuro preferisco che ci battano di quattro punti cioè che ne perdiamo una noi e le vincano tutte loro perché vi giuro che perdere lo scudetto così sarebbe veramente una delle beffe più grandi nella storia nella storia nella storia dell'interismo e spero veramente spero veramente che non succeda ma lo spero veramente con tutto con tutto il cuore per quanto riguarda la partita di oggi allora ho visto un inter comunque che ha fatto di tutto per portarsi a casa il risultato ho visto comunque un inter volitiva un inter che dopo bologna non ha avuto ripercussioni psicologiche ho visto alcune brutte cose bisogna dirlo perché ricordiamoci che lautaro si stava per per mangiare il rigore si è mangiato un sacco di occasioni un geco che non si leggeva in piedi e poi quel sanchez correa lì secondo me ha dell'incredibile c'è questi due lanciati in due lanciati verso il portiere che riescono a mandarsi in fuori gioco a vicenda c'è qualcosa di aberrante è qualcosa veramente di aberrante e sapere che questa gente guadagna 10 milioni di euro in due mi fa girare i coglioni che non avete nemmeno che non avete nemmeno nemmeno idea nemmeno idea è qualcosa di vergognoso comunque salviamo il risultato salviamo sti tre punti la situazione non è cambiata ora vi ripeto è una situazione terribile è una situazione terribile ormai non è neanche più un campionato è solamente un concentrato un concentrato d'ansia un concentrato d'ansia continuo perché è la cosa più brutta è la cosa più brutta dover giocare tre partite sapendo che anche vincendo le tutte e tre potrebbe non bastare non ci resta che gufare non ci resta che gufare sperare in un passo falso ma questi porca troia non sbagliano mai non sbagliano niente non sbagliano niente non lo so io non so più cosa pensare ragazzi io non so più cosa pensare ovvio che finché la matematica non ci condannerà noi abbiamo l'obbligo in quanto tifosi di crederci però minchia se è difficile minchia se è difficile e minchia quanto pesa quanto pesa quanto pesano quegli zero punti contro il bologna vabbè ascolta ascoltate non rigiriamo il coltello nella piaga cerchiamo di andare avanti cerchiamo di trovare stimoli e cerchiamo soprattutto di di concludere la stagione nel migliore dei modi noi dobbiamo vincere tutte e tre poi che succeda quel che succede un abbraccio a tutti ragazzi l'abbiamo